Ciao ragazzi, drama app è finito, ci vediamo alla prossima puntata puntuali qua su Italia 1. E ora sa come divertirsi? Nuova Suzuki Vitara, drive for fun, tua da 17.900 euro, anche sabato e domenica. Suzuki. Expert, quando vuoi di più. Expert ti fa un regalo di design. È la nuovissima mountain bike Momo Design. Basta acquistare uno dei prodotti selezionati ed è in regalo per tutti i clienti expert. Expert, gli esperti siamo noi. Quest'anno compie vent'anni. Auguri? Ma chi? Sarà una grande festa di salute, sport e solidarietà. Ma ti fermi! Ciao! Ciao! È la loro coach, è una mia carissima amica. Non si fermano mai. Ha visto? Si può iscrivere chiunque. www.race4thecure.it Ci sono sfide che insieme si affrontano meglio. E tu? Con chi corri? Nella natura ricerco il meglio di me. E anche Swiss, che da più di 50 anni ricerca nella natura i migliori ingredienti per offrire formule di alta qualità. Come Swiss multivitaminico uomo e donna. Perché non c'è niente di meglio che vivere ogni giorno il mio giorno migliore. Swiss. La ricerca continua. Bel weekend? Pieno. Super pieno. Mi sono alzato presto. Ho navigato un po'. Innaffiato le piante. Accettato una richiesta d'amicizia. Fatto una doccia. Ordinato la cena. Ah, e ho fatto una playlist. E tu? Più o meno lo stesso. La vita è là fuori. E tu? Ford Ecosport. Tu ha 14.950 euro. Per tutti. A maggio sempre aperti. Scopri la magia del Mediterraneo da un punto di vista unico. Con Costa la tua estate è all inclusive. A partire da 799 euro. Ed è tutto incluso. Prenota subito. Chissà cosa farai da grande. Potresti diventare uno scultore magari. Un paesaggista? Trovato. Potresti fare l'agricoltore. Sempre all'aperto. Ma alla fine farai il costruttore. Come tuo padre. Veicoli commerciali Renault. Per crescere hai un'ampia gamma di scelte. Gamma da 7.450 euro IV esclusa. Solo per veicoli in pronta consegna. O da 169 euro al mese con Leasing Pro Plus. A maggio sempre aperti. Huawei P30 e P30 Pro. Riscrivi le regole della fotografia. Riparti dalla vera innovazione. Nuovo Lexus X-Hybrid. Ibrido. Senza compromessi. Da 199 euro al mese con finanziamento Paper Drive Connected. Taeg 4,63. Anche domenica. Fatti notare con la nuova limited edition di Air Action Vigorson. Su ogni confetto uno stile diverso. Scopri il tuo. Be fresh. Get noticed. Italia 1. La chiamano la morte nera. Ma non hanno idea che c'è un modo per sconfiggerla. Questo era solo un accenno del suo potenziale distruttivo. Se l'impero ha questo genere di potenza, che possibilità ci resta? Abbiamo la speranza. Le ribellioni si fondano sulle speranze. Il primo spin-off della saga di Guerre Stellare. Siamo pronti. Lunedì alle 21.20 in Prima Visione Italia 1. Rogue One e Star Wars Story. Un'auto Fit movie. Un'auto Fit. Let's do it. Un'auto Fit.